Carlo Conti lavora alla squadra di cantanti di Sanremo 2025, possibili diversi ritorni in gara. Il Totonomi per Sanremo 2025 è già ampiamente scattato, il conduttore toscano Carlo Conti lavora sotto l'ombrellone al suo atteso ritorno da conduttore, a distanza di 7 anni dall'ultima volta all'Ariston. Il quotidiano Il Messaggero ha avanzato qualche nome riguardo ai cantanti che potremmo vedere in gara al festival, e sono tanti possibili graditi ritorno, da quelli di Elodie e Gaia, regina dell'estate con Tony F e la loro sesso e samba, ma anche Achille Lauro, Icoma-Bassocose e Noemi, che all'Ariston è di casa e sogna il ritorno. Il grande desiderio di Carlo Conti è invece Tiziano Ferro, che non ha mai partecipato alla gara e la sua partecipazione sarebbe in linea un po' con gli ultimi Sanremo di Amadeus, con grandi nomi della musica italiana in gara e non ospiti. Questione autocandidature, anche qui Carlo Conti avrà un bel da farsi, visto che non mancano gli artisti vogliosi di tornare in gara a tutti i costi, come Marcella Bella e Albano, la sua ultima volta in gara è stata a Sanremo 2017, con il brano di Rose e di Spine proprio con Conti al timone, che in una recente intervista rilasciata mi ho ha dichiarato. Stiamo valutando alcune opzioni, Sanremo è sempre stato un evento significativo, soprattutto per me che soffro di Sanremite acuta, e deciderò di partecipare se avrò la canzone giusta da proporre.